22 armi, tra cui un mitragliatore e 5 chili di droga, il cui valore si aggira intorno ai 350 mila euro. È quanto è stato trovato e sequestrato nel garage di un condominio di Mariano Comense da parte dei carabinieri che indagano per risalire ai responsabili. Una scoperta inquietante, quello rintracciato è un vero arsenale costituito da un mitragliatore di fabbricazione jugoslava, completo di serbatoio e di 74 proiettili, due fucili a canne mozze, di cui uno rubato nel Cremonese, 13 fucili monocanne, anch'essi risultati rubati, quattro pistole con matricole a brase, una semiautomatica russa e un revolver e poi caricatori, proiettili e quattro silenziatori. Alle armi si aggiungono 4 chili di hashish, un chilo e mezzo di cocaina purissima, un altro chilo di sostanza da taglio e 20 grammi di eroina, per un valore complessivo stimato intorno ai 350 mila euro. Oltre alla droga è stato trovato tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione risale a ieri ed è stata svolta dai carabinieri di Mariano Comense insieme con i colleghi della compagnia di Cantù e del comando provinciale di Como. Il box è stato scoperto nell'ambito di una serie di controlli e perquisizioni domiciliari eseguite in alcune abitazioni tra Mariano e Arosio. Grazie alla collaborazione dei finanzieri del gruppo Cinofili di Ponte Chiasso è stato possibile trovare lo stupefacente. L'attività investigativa diretta dalla procura di Como è tuttora in corso, si lavora con il duplice obiettivo, accertare la provenienza illecita del materiale rinvenuto e rintracciare i responsabili.